in un altro video vi ho spiegato come funzionano i livelli levels che trovate su immagine regolazioni livelli mentre in questo video vi spiegherò come funzionano i livelli in inglese chiamati layers che si trovano in questa zona potete attivare facilmente questa finestra sul menu finestra livelli oppure premendo il tasto f7 sulla tastiera i livelli layers che trovate qui praticamente li dovete considerare come dei fogli trasparenti sui quali ci sono alcuni oggetti vi faccio vedere subito come funziona crea un nuovo livello livello 1 e in questo esempio farò qualcosa di molto semplice ad esempio potrei andare a creare un rettangolo crea un rettangolo di colore verde e come vedete ho creato questo rettangolo vado a creare un altro livello livello 2 ora lo coloro ad esempio di rosso ed ora crea un terzo livello prendo il colore blu e ad esempio potrei fare un cerchio ecco qua i tre livelli come vedete praticamente il livello numero 3 che è il cerchio blu è in primo piano cioè qui in questa zona è in alto poi c'è il livello 2 che si trova a metà strada tra il blu e il verde e poi c'è il livello 1 se io modifico la posizione del livello 1 semplicemente trascinandolo verso l'alto il livello 1 nel file viene posizionato in alto posso quindi invertire tutte le posizioni dei livelli per ottenere il risultato che voglio se io scrivessi in questo caso ad esempio con il colore nero scrivesse ad esempio marcotogni.it eccolo qua lo ingrandisco con ctrl t e poi tenendo premuto shift sulla tastiera lo posso ingrandire mantenendo le proporzioni come vedete in questo momento marcotogni.it si trova sopra il livello 3 cioè quello del cerchio blu ma sotto gli altri due livelli quindi come vedete quando muovo questa scritta rimane sopra il livello blu del cerchio blu ma sotto gli altri due se porto la scritta in alto marcotogni.it risulta sopra tutti i livelli adesso sempre con ctrl t sulla tastiera e utilizzando la funzione per ruotare la scritta posso posizionarla in questa posizione e sotto posso andare a agire su tutti i livelli modificandone le posizioni se io porto marcotogni.it sotto tutti i livelli come vedete viene sormontato da tutti gli altri livelli praticamente i livelli servono per dare la giusta posizione nello spazio agli oggetti non solo agli oggetti ma anche le fotografie se ad esempio create una fotografia un fotomontaggio grazie appunto ai livelli potete dare l'effetto che desiderate per altri miei video andate sul mio sito www.marcotogni.it e leggete le mie guide alla fotografia